Nel frattempo è emerso Popovici, due l'anno scorso non si sono scontrate perché l'australiano era in parziale riposo. Popovici imbattibile 2022, non è lo stesso atleta che stiamo vedendo in questi campionati. E si aggiunge anche la difficoltà del rumeno, già dimostrato in un paio di occasioni, a gareggiare quando si trova spalla a spalla con qualcuno, quando non riesce a volare via, come ha fatto appunto nell'estate dell'anno passato. Finale mondiale dei 100, stile libero dall'alto al basso Grusset, Popovici, Pan, Richards, Chalmers, Nemeth, Kruks, Alexi, si sale sul blocchetto di partenza. Super reattivo in corsia numero 4, Matthew Richards che stacca 0-59 e poi nella parte notata prova a cogliere tutti di sorpresa Maxime Grusset verso la virata di 50. Beh, anche Kruks parte all'arma bianca e Alexi che ha fatto un'ottima batteria, una pessima semifinale e ci provano. La laterale non è una brutta corsia per notare i 100. Allora si devono muovere al centro della vasca con Alexi che è passato a 22,41, Popovici a 25 centesimi e Grusset a 19 centesimi di differenza. Con Maxime Grusset che prova a continuare a spingere qua giù, impressionante Jack Alexi che continua ad essere al comando, tranne ora quando arrivano come frecce Richards e Chalmers al centro della vasca. Un arrivo tiratissimo con Kylie Chalmers che va a conquistare il suo primo titolo di campione del mondo. Medaglia d'argento non ci avrebbe mai scommesso nessuno per Jack Alexi, medaglia di bronzo per Grusset nell'oblio David Popovici e Matthew Richards. Arrivo contenuto per quello che riguarda i differenziali, Kylie Chalmers finalmente per lui sul tetto del mondo. 47 e 15. Beh devo dire ancora una grandissima prestazione, una capacità di lottare abbastanza unica e l'impronta lasciata su questa gara, l'idea che si possa nuotare dieci volte e dieci volte lui possa portarla a casa. In queste condizioni decisamente il numero uno a dispetto della fucilata iniziale di Alexi, bravissimo, peraltro a scendere fino a un crono molto interessante. Avevamo detto di Alexi difficile immaginarlo protagonista, invece è stata la sorpresa assoluta. Sì, senza dubbio per il piazzamento, un piazzamento baciato da un crono davvero interessante, molto bravo anche Grusset, devo dire, 47 e 42. Poi erano lì, erano lì in tre con Pan e Richards nell'arco di veramente noccioline. Popovici fanno...